Forza Italia non ci sta ad essere messa alla porta su una questione importante come quella del Parco della Costa Tiatina. E così, in vista della conferenza ministeriale indetta giovedì 10 settembre, annuncia ufficialmente il ricorso a misure legali, come un esposto alla magistratura, per bloccare la realizzazione di un territorio che danneggerebbe le economie di diverse categorie. Alla base della denuncia le titubanze sulle perimetrazioni, sui criteri adottati e sulle conseguenze di una decisione presa senza il consenso popolare. Noi rimaniamo dalle nostre posizioni, anzi il sottoscritto è la mia posizione che non è affatto una risorsa per questo territorio. Il territorio viene ingessato, il territorio già si è espresso in maniera contraria. Mi sembra che sono 14 anni che si parla di questo parco e poi nei fatti concreti nessuno ha approvato nulla. E' quello che continuiamo a denunciare. Il 10 giovedì ci sarà una conferenza nazionale dove non vengono invitati i sindaci, ma partecipa l'Anci, non partecipano le province, ma partecipa l'UPA. Quindi già questo credo che sia la dimostrazione. Ma la cosa ancora più grave è che, come al solito, c'è questo modo di non considerare il Consiglio regionale, visto che c'era un ordine del giorno, una risoluzione votata non solo dalle opposizioni, ma anche dalla stessa maggioranza, dove si chiedeva la rivisitazione di quella perimetrazione. Si torna a parlare delle carte utilizzate per la perimetrazione risalente al 1956, alla scelta di suddividere appetti nella sua conformazione e ai danni che potrebbero ricadere su albergatori, balneatori, agricoltori e imprenditori di tutta l'area. La lesere immagini tracciare il percorso di un parco 1 a 25 mila, cioè il segno di una matita che equivale a 14-15 ettari di terreni. Credo che sia veramente una cosa nata male, fatta male. C'è un processo di accelerazione che non trova giustificazioni. Ci sono i portatori di interesse, cioè coloro che svolgono le attività, cioè gli agricoltori, i balneatori, i ristoratori, che vorrebbero essere interessati a questo processo. Nessuno li ha sentiti.